Il Ciampedie, ma quanto è bello! È proprio vero che è il campo di Dio? Non l'hai proprio così, se non c'è bene la bellezza di questo posto, la sapere che gestisce la mano del Signore Dio, dal punto di vista etimologico il termine Ciampedie ha un significato più semplice e fa senza mingol manco romantico. Ciampedie, perché ciampedel, deriva dalla parola latina campus che vuol dire ciamp, ciampedel un ciamp e al plural più ciampes ciampedie. Questo è un piccolo esempio. Per conoscere altre informazioni e curiosità di questo, sui nomi della nostra valle, i nomi di laddini, potete tornare parte alla Ischù della Laddina 2024 che ha proprio per te i nomi della nostra valle.